Musica Beppe Severnini, Twitter facilita la sintesi, la sintesi è molto amata e ben recepita dai giovani, qual è il messaggio di Severnini ai giovani oggi a crescere tra le righe? Ah così, proprio una cosa veloce, in 140 caratteri forse direi meno è meglio, poco, meno è meglio, tre parole, e questo vale per i ragazzi quando studiano, per noi che scriviamo, per gli editori, per tutti quanti, credo anche per l'Italia che è soffocata di norme e autorizzazioni, meno è meglio, però le cose quando poi se ne fanno poche bisogna farle veramente bene. Un'ottava edizione di crescere tra le righe, sempre a livelli altissimi per ospiti e soprattutto per contenuti, come vede lei questa edizione? Ma mi colpisce l'assenza delle istituzioni, perché di fatto non ci sono quest'anno, forse è meglio così, perché la nostra industria, che è una bella parola, il mondo editoriale è in un passaggio fondamentale, quindi forse dobbiamo vedercelo un po' fra di noi, fra i giornalisti, qua ce ne sono molti, molti direttori, e gli editori. Io sono convinto che in Italia sia accaduto, dal punto di vista degli editori, una cosa importante, cioè che gli editori non si sono fatti rubare la leadership sulla rete, è successo in Gran Bretagna, dove i leader sulla rete sono i grandi broadcaster, anche pubblici, la BBC, quindi questo fatto però adesso occorre fare un passo in avanti, bisogna investire, bisogna rischiare e bisogna soprattutto i ragazzi non tenerli solo in sala ad ascoltarci o a fare domande, ma coinvolgerli, bisogna trovare assolutamente il modo di coinvolgerli, perché un ragazzo di 25 anni ha delle idee che io a 55, anzi 56, non ho. Osservatorio Permanente Giovani Editori che fa spallate, che è molto tough, come dicono gli inglesi, nei confronti dei giovani per dare loro uno spiraglio in questo mondo abbastanza complicato del lavoro. Come vede l'operazione e l'attività dell'osservatorio? Io l'osservatorio lo conosco da molti anni, al quotidiano in classe ho partecipato alle primissime uscite con Andrea Ceccherini a Torino, a Firenze, ho condotto un'edizione di Bagnaia, quest'anno sono andato nelle scuole, ho fatto lo spunto settimanale video per i ragazzi, so l'importanza di questo, però se noi pensiamo davvero che portare i giornali di carta sia sufficiente, prima bisogna andare a controllare se li leggono davvero, questo è fondamentale, è una cosa di onestà anche nostra. E poi non è sufficiente, il Corriere della Sera, il Quotidiano Nazionale, il Sole 24 Ore e tutti gli altri non sono un ammasso di atomi, sono quello che ci sta dentro, i ragazzi l'hanno capito, o li coinvolgiamo e qualcuno ci prova e ogni tanto ci si riesce pure. Sogno, emozione, motivazione, secondo lei vale o deve valere anche per chi vuole fare il giornalista o entrare nel mondo dell'editoria oggi? Io ho scritto un libro, si chiama Italiani di domani, ho girato l'Italia, ho visto più ragazzi nell'ultimo anno di quanto ne abbia visto un direttore di una colonia marina, cioè ne ho visti a migliaia e migliaia e sono convinto che bisogna dare al loro talento, cioè investire sul loro talento che è la mia prima T e poi ne ho otto anch'io, come le otto edizioni di Bagnaia e spiegare che devono essere tenaci e spiegare l'importanza del tempismo che ogni tanto non hanno, cos'è la tolleranza che è diversa dalla rassegnazione, farsi il loro totem di valori, insomma sono otto, sono tutte cose indispensabili. I ragazzi capiscono subito se c'è qualcuno che sta cercando di fregarli o c'è qualcuno che sta cercando di aiutarli, hanno il radar, purtroppo capiscono molto bene che c'è gente che dice e dice ma di fatto ai ragazzi non si importa niente. Grazie mille.